ciao a tutti oggi vogliamo raggiungere tutti i bambini i ragazzi con le loro famiglie per un saluto pasquale vogliamo fare con un canto che esprime la gioia e la festa di questo tempo pasquale che viviamo con la chiesa in questo canto c'è una parola che è scomparsa in questi 40 giorni del tempo di quaresima vi ricordate qual è? vi aiutiamo è alleluia e cosa vuoi dire questa parola? è una parola che deriva dalla lingua ebraica una parola antica che significa lodate dio alleluia cristo risorto quindi è come dire lodiamo il signore è vivo è risorto è in mezzo a noi alleluia per cui cantiamo per esprimere la gioia in questo tempo anche se la situazione nel mondo non è tanto gioiosa vogliamo con questo canto ricordare che nonostante tutto lodiamo il signore che è in mezzo a noi alleluia cristo risorto gloria a te signore 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 alleluia cristo risorto Gloria a te, Signore